Tutta la natura non è opposta al Bore, il mondo minerale, vegetale e animale. No, non abbiamo per questo nulla da criticare su questo. Soltanto quello che è opposto al Bore, per questo è definito il desiderio malvagio, malefico, così è definito in questa forma, non c'è nulla di male, soltanto perché lui è opposto al Bore e è malvagio. Questo desiderio si trova soltanto negli esseri umani e non in tutti anche. Ci sono delle persone che nascono, tutta la vita vivono, muoiono, come degli animali. L'intenzione non è che io disprezzo gli animali, intendo con questo che non hanno nessun risveglio. A lasciare spazio in loro al Bore, al creatore, alla forza della dazione, all'amore verso il prossimo, veritiera. E per questo, questa giorno sono definiti come nel livello dell'animale, tutti somigliano agli animali, così è stato definito nei testi. Soltanto quelle che sentono dentro di essi, qualcosa di malessere, qualcosa che non gli permette di vivere normalmente come gli altri. Come tutto il resto non riescono a vivere, qualcosa li disturba dentro. Non importa che la loro vita ancora è come l'animale, però come tutto il resto non riescono a vivere. Loro devono sfondare questi confini interiore e non sanno cosa fare, cercano continuamente qualcosa che neanche loro stessi non sanno cosa stanno cercando. Perché questo stimolo interiore che arriva dall'oscurità non fa vedere, non illumina proprio sulla direzione della luce o indica la luce. Se il Bore deve inventare a loro il cammino. E certe volte ci vogliono di tanti anni per questo. Per questo è molto confuso tutto, fino a che arrivano a quel posto e in qualche forma iniziano a sentire, ascoltare qualcosa. Che questo dà a loro una reazione interiore. Anche questo ancora non è abbastanza, perché dopo di questo devono ancora continuare, passare molti dubbi e domande. E tanti anni dovevano investire, fino a che in ogni momento e un momento, un attimo, hanno questo conflitto continuo. Se questo è il cammino, questa è la soluzione veramente, questo è un conflitto, non è soltanto contro la loro bestia che esiste in loro. Che pretende delle fondamenta, stare sui quattro gambe, essere proprio come tutto il resto dell'umanità. Se non che questi, questa vita, cercare la fonte nostra, loro pretendono della persona, non soltanto essere su due gambe o su una gamba, se non trovarli in aria per sollevarsi dalla terra. E in tutti i significati di questo, nella conoscenza, nel sentire, nel confusione terribile, contraddendo tutto quello che esiste intorno a loro, tutto questo, ancora molto più di questo, il fatto che, ancora scoprirete voi, quali forze opposte nel cammino vostro, proprio animali cattivi, ladri, banditi, alla fine sono definiti tutti come serpenti questi, però con molto, molto rumori intorno. Allora così, noi in questa forma avanziamo. E tutto questo arriva dal Boreh, per indirizzarci a tutti, per mantenere continuamente l'oscurità, che non scompaia, che non perderemo dell'oscurità, neanche un grammo di oscurità. Perché soltanto da questo noi possiamo raggiungere, acquistare tutte le forme di scernimenti, più delicati che esistono nel Boreh, e allora potremo sentirli, conoscere, riconoscerli anche, e così comprendere come lui ha fatto questo, per quale ragione in questa forma ha realizzato questo, cosa, il suo primo pensiero, qual è, come deriva dalla fine, che la fine arriva dal pensiero prima, e come questa è la condizione finale, che le creature siano, da un lato, opposti da lui, in tutto però, sono arrivate alla condizione che sono proprio come lui, e sono rimasti procreature. Non così hanno corretto qualcosa in lui, o hanno cambiato se stessi in qualcos'altro diverso. No, si sono evoluti nell'oscurità, contrapposti al Boreh, e al diare di sopra di questa oscurità hanno portato la luce, e perché l'oscurità è illuminata come la luce, e con questo sono arrivati a quell'eternità e perfezione, che esiste nella forza superiore. Grazie.